Io so che c'è una chiara volontà politica a far ricadere tutta l'attenzione su questo problema. Io so che il modo in cui il problema ci viene presentato è già per definizione un'esercitazione di potere. Io so che ogni giorno ci sono nel nostro paese e nel mondo emergenze molto più grandi dell'attuale coronavirus. Io so che questi problemi riguardano molte più persone e durano da molto più tempo. Io so che l'opinione pubblica nei confronti di altre crisi non saprebbe mai reagire nel modo in cui gli è stato detto di fare ora. Io so che nessuno di noi avrebbe mai fatto per sua volontà, davanti alle ingiustizie del mondo, i sacrifici di questi giorni. Io so che l'attuale modalità di uso dei droni e dispositivi tecnologici per la sorveglianza ha la funzione di renderli più accettabili quando tutto ciò sarà finito. Io so che quelli che ci comandano e oggi sembrano i paladini della vita umana, finita questa emergenza, non faranno nulla per risolvere tutte le altre emergenze finora citate. Io so che i costi di questa crisi non verranno risolti con tasse patrimoniali, ma saranno fatti scivolare sulle classi più deboli. Io so che temi come l'inquinamento non possono essere toccati perché hanno alle loro spalle un immenso potere economico. Io so che virus come questi sono il risultato di un sempre più deliberato sfruttamento delle zone naturali selvagge che una volta disboscate e biologicamente squilibrate aiutano il processo di spillover delle malattie. Io so che la medicina naturale, che pone molta attenzione sull'alimentazione, è messa appositamente da parte perché un suo sviluppo ruberebbe spazi di mercato alle aziende farmaceutiche. Io so che quei 400.000 morti per inquinamento continueranno ad essere trascurati perché sono strutturali al nostro sistema economico. Io so che i problemi sociali che nascono da interessi economici non verranno in alcun modo affrontati. Io so che questo non era l'unico modo per affrontare l'epidemia. Io so che i popoli la cui vita e dignità sono state decise dal valore della loro moneta resteranno gli schiavi del mondo. Io so che la crisi ambientale, fin tanto che colpirà duro solo gli ultimi, non verrà affrontata. Io so che tutto ciò avviene perché è reso giusto per i sudditi ciò che è utile per i detentori del potere. Trasimaco, Platone. Io so e ne ho le prove che ad affrontare e a commuoversi solo per alcuni tipi di emergenza e altri no, c'è una chiara volontà politica e mai, mai mi adeguerò a questa ipocrisia. Grazie. Grazie.